Siamo sull'asse principale della città, una bottega che si apre su questa via, è uno strato post-terremoto, a Pompeji c'era un grande terremoto nel 1962, il livello viene alzato, però c'è un battuto di terra che consente a una pestugine, una tartaruga di scavare qua, incinta e gravida, dentro abbiamo trovato un uovo e poi per un motivo non ignoto non depone l'uovo e muore, cosa che a volte capita, ci dicono i biologi. Questo è interessante perché ci permette di riflettere su Pompeji in questa fase, dopo il terremoto ma prima dell'eruzione, quando molte case erano in ristrutturazione, tutta la città un cantiere ed evidentemente alcuni spazi erano così poco utilizzati che potevano girare animali selvatici, entrare e cercare anche di deporre le uova in questo spazio. Poi ci sono anche frammenti della decorazione, forse della stessa casa, trovati nei strati di rialzamento. Esatto, questi sono frammenti di secondo stile decorato che probabilmente vengono o dalla casa stessa oppure da una delle case vicine, ma è molto probabile che vengano dalla casa stessa che ha decorazioni parimentali e parietali in secondo stile, quindi chiaramente compatibili con questo tipo di reperti.